Un giorno verrò a Padova, un giorno venga a Padova, me compro il cd, faccio l'assicurazione e ti spacco il cd davanti agli occhi Voglio vedere se me lo ridai E te faccio licenzia caro Così perlomeno potrei dedicare più tempo per il lavoro in questo canale caro Che ha fatto? Allora l'ha cacciato davanti al cliente L'ha cacciato davanti e l'ha cambiato lo stesso, cosa che non può fare Ah, proprio tu che l'ha cacciato le... Non ho capito, gli ha spaccato il cd davanti, l'ha cambiato lo stesso e è stata licenziata Ipotisiamo questo, tu vieni nel negozio da me, prendi un gioco, prendi un gioco e ci fai la protezione, lo spacchi davanti a me dopo che l'hai comprato, io non te lo cambio Per quale motivo? Tu sei costretto a pagare, non l'ho pagato E tu mi hai spaccato volontariamente di fronte a me E se invece tu... E se dici che è stato per sbaglio? Cioè nel contratto dell'assicurazione c'è questa clausola in cui non te lo senti E se invece, se tu invece esci, ti vai a fare un giro E che cazzo in solo, come è capitato, anni fa mi è capitato Che un ragazzo ha preso un gioco, gli ha caduto in strada, un camion è passato sopra Alla glielo si cambia E la madonna! E la madonna! Al ragazzo o al gioco? Ma al ragazzo? No, no, al gioco, al gioco, no ragazzo Ah beh, no, al senso, ma fammi capire una cosa Com'è possibile che un camion sia passato sul disco del ragazzo che aveva appena cooperato il GameStop? Era in bicicletta, gli è caduto, però gli è passato il camion sopra che ti devo dire Questa è la storia che ti ha raccontato? No, non è la storia che l'ho raccontata, è veramente in bicicletta Se invece io ti spacco il cilindro di davanti, tu non me lo puoi ridare No, anzi ti chiamano sicurezza e ti faccio accompagnare pure il che ti menano E io meno la sicurezza Ma c'è pure quello lì, quello con la faccia Questo proprio Ma è la sicurezza Il braccio di uno di questi qua è grosso quanto il tuo raggio, vediamo tu Te l'ho fatto anche vedere Va bene Eh madonna Mike No vabbè, c'è sto tryhard hub, gli avalgadoni, ma non vale un cazzo Non vale Ma sei più grosso a te, però Non è vero, sembro Ma è spaccato, sembra Eh ma perché ho sculato Appena ho visto gli armature online Mi sono venute in mente la quest del pala Sherazin No, non dire niente Mi è venuta in mente da Arim Mi è stato tenuto in mente il sacco dei traumi con il passato prima Ragazzi sono talmente belle le nuove tardi Mi è venuto Sì, sì, sì Che potete interazioni gustose potrebbe o meno avere Eh, perché no Eh, tipo col fatto del four river Ma mi spiegate anche questi forci che fanno No, no, questo però Seleziona un pezzo Li ruba tutte le gemme E se le prende lei, capito? No, no Cioè, guarda Leggi Seleziona un tuo servitore Ruba tutte le gemme dai servitori adiacenti Ok Bene Capisco Io farmo due gemme del sangue a botta Probabilmente tira un po' anche il true dopo Oddio, non lo so Spero che sia abbastanza Non credo con quel trade, purtroppo Quindi praticamente prende e poi le Ah, quindi è il 3D prima ragione, bro Non ricordavo questa cosa Il 3D prima Ah, questo è il grosso Ma dopo questo E' un rapam Ma spaccato Sì Il finale con la fam Il 3D non fa schifo Li possiamo anche dare una gemma del sangue, no? Un terzo posto dignitoso Complimenti, colonnello Grazie, Carlo Ti aspetto per la prossima Io non lo so se vuole dargli la gemma del sangue a questo Una, due, tre Che c'ha la fam, da chi? La fam C'ha un pezzo grosso Verrospino Che è spawn Pezzo grosso Verrospino Attenzione Chi l'avrebbe mai detto? Poi c'ha Marlock con veneno C'ha Elisa Quindi con brosa Quella là che è più Quella del pirata E poi altra roba Robaccia Robaccia Detto Pericoloso Mattia ho visto che Stai adottando questa nuova tattica Di comprare i verrospini Sto comprando i verrospini, caro Sì Diciamo che li compro E poi Penso Ah, ok Vedi qua per esempio Ho anche una tripla Ah, ok Che non farò subito Ma che farò comunque dopo Vedi qua Vedi qua Vole Easy Nuoverò è wow Io ho una questa Io do Direi Che è un 11 portafortuna Va bene Va bene L'altra prova Non mi rompe lo cazzo Sì sì Ho pensato Hai ragione Tatillo È il mio numero preferito Bravo Anche il mio Vedo che hai studiato No bro Questi non morono Te l'avevo detto No Guarda che adesso No Destra Sì Destra Quasi Quasi Tira Easy Cosa fai Doppio selle Prendi un 6 E giochi a tre pezzi Oppure cosa fai Ti rap Se stai facendo Ti rap frizz Io sto Ti rap frizz Cos'ha Jendix Verro spin Ma che domanda è Ma che domanda ti faccio Jendix Verro spin Però Pensa Tra la totò Ken Per l'HP Ha detto Non me ne fotte un cazzo Con poi verro spin Se mai ci sta Di rap frizz Per favore Puoi mettere Puoi mettere Una gemma Sul 9 e 11 Allora Io non so Come utilizzare Queste gemme Mettite una Sul 9 e 11 Perché 12 Sono come gli apostoli Per favore Ne mette uno Sul 4 e 6 Tanto però Trippiamo Una si dai Dai una sul 4 e 6 Queste ce le kippiamo Valedetto dam Nella speranza I 4 e 3 Muoiano Grazie Se li buffi Ovvero che non muoiano Attenzione Nin for speed Io Ancora Ammazzali Muori Morite Questo Bravissimo Che gioia Pazzesca Guarda qua Guarda quante Gemme Sangue Mi rote il caso Che non sono gold Però non si può Non si può Sciuppare Su Batman Cioè devi triplare Per ora Per ora Mi sa che un 7 Non lo possiamo prendere Direi che Eh stava per tirappare Voglio essere onesto Amore Fermo Fermo Non lo giocare però Ok Prendilo Sì gioco il 3 3 Oddio per una gemma Serio Sta pagando 3 Eccolo Il colondello Il colondello L'ho letta Il colondello L'ho letto Bumba Ma Bumba E quello di No Bumba E cose No Bumba E quello di Bumba Che cazzo Abbaffo Non c'ho pezzi Forti da abbaffare Quel 4 1 Era male Forse Ma non lo so Forse cerchiamo Un idro No No Ma avrei speso 3 gold Per sta roba Però Il colondello Il cinghiale Il cinghiale Baffalo Per favore Oddio le gemme danno più un aggiuntivo Eh Sicuramente utilizzeremo delle gemme Secondo me puoi trovare qualcosa di degno Sì ma qualche gemma la giochiamo 3 giocale Per onestà Intellettuale Aspetta Quante 1 2 3 Sono 7 Ben C'è qua Allora se ne giochi 3 Tanno te ne tornano 3 Sì no Ma qualcosa qua giochiamo Baffo il cinghiale Ah il 10-12 Te ne da una Sì sì Te ne da una Allora ok Sì Vabbè Voglio baffo il cinghiale Sì sì Ma che cazzo serve Ma perché Damo L'11 portano 1 2 3 Porta fortuna Gioca Fai così Non baffo il cinghiale Secondo me è quello Voglio trovare un po' di scudi A cui Noi vogliamo trovare questo No caro il 4-1 Noi vogliamo baffare tipo uno Come questo Sì ci sta Un vidro Esatto 10 No Mi vedo Un po' Ma è però Morite Sì Muori Ammazzalo Brava Bene Lui sarà un pochino più difficile Potrebbe Poteva succedere Aspetta No no Aspetti 10 Aspetti Aspetti Magari viene un goccolone Man ci serve Un nostro Voglio baffare No 3-1 Skip Berrospini Perché Perché continua A leggere Quello che c'hanno gli altri Abbiamo una dribla Vogliamo triplare davvero quella roba Cioè si può fare tanto per triplare Però lo vendi prossimo turno Magari puoi triplare altro Sì no io vendo questo il roll Eh dai Provi tripla pumba No Provi tripla pumba esatto No Tripla pumba Oh Anche per quello Intanto lo stai tenendo Stavo tenendo il 5-5 no? Sì Oddio Secondo me puoi farlo 6-5 è una coppia Non è malissimo No no ma infatti Io lo triplerei Magari trovo un altro porco lì Lo dico anche per trovar qualcosa Per baffare con ste cazzo le gemme Altrimenti me la tengo in mano È bruttissimo Eccolo Carra Allora diamo un altro paio De buff dai per ride Si Su 7-7 7-7 Un altro Dai 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 d'altra Rolla 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 Una sul pumba Cazzo il 4-3 non è male Cioè prendi scudo Non lo so Finzo 4-3-1-2 No le prendo Ripendo 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 non è male in assenza di altro devo dar valore a ste cazzo del genere che qui qui ci danno più due entrambi ma sia più 4 più 4 si no e danno un baffo sbagliato 77 presentato niente ma la domanda e morire 19 ma anche proprio che il meme di 10 del 19 sopravvive continua il suo cuore vedi gente no 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 perché non si è contato il colpo del coccolone c'è sempre non avremo vinto lo stesso anche col 5 che damo che spediato nel 43 diventa forte secondo me è uno scudo poi non so però c'è uno scudo però generico sicuramente secondo me il 12 lo prendi io posso dirà parlare a se ti rappando e allora poi ti rappare prendere 12 che nelle mani non fare un cazzo cioè o dai qualche c'è ma non lo so io io tiravo e tengono due in mano cioè questa prese con me certo ci piacciono e diamo delle gemme altrimenti abbiamo otto carte in mano possiamo prendere i 10 i 19 metti lì dopo il 20 22 26 manica addirittura allora devo avere al massimo tre gemme no che devo avere perlomeno sette carte in mano abbiamo una pumba no come una osiride il 12 una pumba è un posto simba no perché guarda del 14 14 da così si vede un'altra arriva 20 20 la vita no ma io la donna tagge ma prima è diventa un cazzo però queste gemme cosa fortissime su altri pezzi non la do pumba 1 2 e 3 quando c'è ad un gioco e ho capito abbiamo più l'hp adesso bisogna fare cassa comune guarda che bene le stelline come quando mi trovavo ecco cosa non le luci che vedevi oggi è così man vita come il cazzo la vecchia oddio no perché questo però questo però c'è doppia no mi sembra che è l'ultimo man c'ha doppia no mi sembra non scappato le casa ma possiamo refullati doppia no mi quanto mi gusta doppia no mi errada fai schifo fai arrivato il momento di scena dai e questi vorrebbero essere trighi ma magari 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 li levi dal 20 24 1 magari lo prende ne prendo uno ma per dopo se planning in banca ma ti fa la cicala bravo però tutto in banca eccola qua la nostra rima di soli devi usare una germa perché non hai spazio in mano se la rima dai privo quel troppo assai per caso persona germa cazzo vabbè si dai da questi ragazzi e un po di display si ha l'ottante gemme aspetta non la prima roma prima vediamo se troviamo un qualcosa eccolo bomba fermo abbiamo spazio no cani qualcosa no aiuto allora fonti dire gemme dal big bro esatto come se fanno chi vuoi va a fare ma fa quello lì a posto premato che è andata è andata è andata isi sbagliato non ho sbagliato provendere le gemme del sang ulteriori è giusto ok ok pumba e da più 3 più 3 dalle gemme potevo prendere una gemma in più però devo prendere però è ok non ti preoccupare lo esatto però per la giusta è sì ma dove nella gemme più guarda che ti si intripo al cervello è divertentissimo è sì no è troppo bello è un po critico le gemme un po critico no perché diciamo è un mio tesoretto capito sono molto avido nella vita e tendo a tenermele devi vederle un po come il cazzo limitato no hai ragione carlo sono avido anche di quello infatti lo do poco ma ne prendo assai ma quanto è bello il detrato che c'è l'aspetta c'ho ancora 8 gemme ok no 8 più due otto più due non è vero non c'è più a capire c'è sol sempre ridurano l'unità di due settimane 8 più due settimane comunque ho fatto tre game e ne ho visti due da mattia la raffa ma sempre fatto dopo quattro primo posto della madonna ma l'1 2 piglia non lo so cioè io non c'è poi no vaffanculo 5 6 5 6 io ho paura che c'è sì sì e leviamo il 14 12 no sì dire di sì sì no non farlo adesso sì perché mi dà mi dà gemma poi magari sbaglio rolla 10 e rolla super per di porca puttana o io te temmelo a collo è lo più ovviamente lo tieni in mano non è vero che rimano qg si dice qg qg si dice gioca giocamini 5 6 non so sta ok non va a fare sempre lo stesso però 4 3 3 a chi comprata tre matti sì sì però la no oltre 6 ci facciamo cazzo te sei bro se un coglione ma non è vero è la light ma è la sella i feng dei selfless e la life venga di e la life venga e la life venga delle selfless basta parola la vostra parola ma abbiamo vinto con tutte le certe ma è giusto pare secondo me tesoretto tesoretto di gemme che si sta alla fine alla fine del game a ogni gemma che c'era un appunto 21 abbiamo fatto qualcuno col nuovo eroi sono appagato e contenutissimamente parlando molto 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 contento da canale